Oh no no no, cominciamo oggi! Allora, ripeti prego. Mi chiamo Manuel e vengo da Roma. La cosa che più mi piace del cammino è l'essenzialità. Secondo me sul cammino uno torna ad apprezzare le piccole cose, il caffè la mattina, la sveglia, proprio le piccole piccole cose, il panino. Poi è bello camminare già di per sé, perché comunque riesci a ritornare un po' intimità con te stesso e un sacco di altre cose. Poi conosci tantissima gente, che è una delle cose più belle del cammino. Non so che dirti poi. Molto bene!